Oh no, cosa sarà mai successo? Perché sono vestito diverso? Perché sono scemo! E ho registrato senza registrare il microfono. Non è che ho fatto molto, ho provato ad andare avanti diverse volte, tantissime volte, in questa zona. Non ci sono riuscito, o meglio, ho raggiunto il boss un paio di volte senza riuscire a batterlo. Allora sono tornato alla foresta dei giganti, nella zona che non avevamo ancora esplorato. Ho trovato roba, non mi ricordo neanche già più cosa di quello che ho addosso, ma qualcosa, forse addirittura la spada, e siamo ancora qui. Quindi in realtà non vi perdete molto, però come vedete alcuni nemici non spawnano più, perché sono morto uccidendoli tante, 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 tante volte. Magari se uso un effigie che non ho vita. Vediamo un po', qui come vedete ho preso letteralmente ogni cosa. Quindi non vi preoccupate. E ciao! Alcuni stanno morendo da soli però. Fatemi passare. Aha! Anche lui! Bravi, bravi, morite tante volte così poi... E vabbè, se quelli che mi inseguono venissero uno alla volta qui dentro, stavo addirittura pensando di... E no, quelli della From senza Miyazaki sanno fare qualcosa, no? Così, per dire, perché qui... Ora, il boss è fattibile. Ve lo dico già, non è niente di incredibilmente impossibile. Cadi giù. Dai, dai! Era il 90% del suo corpo era giù, era fuori. Bravissimo! Bravissimo, hai capito? Ok. Aiii, chihuahua. E ti è. Con un'ansia incredibile perché... Guardate il danno. È irrisorio. Se non mi faccio prendere come un cretino, problemi grossi non dovremmo averne. Appena detto, guarda. Appena detto. Non è che faccia molto, eh. Fa meglio... Fa meglio della spada a una mano. Ok. No, al bastone. Eh sì, la piromanzia. Guarda, contro di lui la piromanzia. Ti prego che non voglio mai più vedere quest'area in vita mia. Cosa è successo? Che spavento. Pensavo di essere morto. Oh no! Beh, ho l'arco, eh. Se serve. Però... Non voglio romperla. Porca miseria. E... Ci saluti. Mamma mia! Victory! Ah, grazie. Oh, meno male. Meno male. Oh, Dio santo. Meno male. Apriamo sta porta. E andiamo avanti. Tanto queste anime non penso bastino per livellare. Perché siamo in realtà di livello veramente alto. Quindi... Ah, però ti ho preso. Eh... Ale... No, dai. Ale. Drop. Uh, salve. Eh, io qua ho una paura di cadere. Vieni, vieni. Ok. Uh, scudo grande di Reeve. Ah, è l'altro di quelli, di quelli, dei due. Eh... Siamo ancora... Uh, meno male. Non siamo in Fetrol. Allora. Qui non si apriva. Sì, invece. Si apriva. Perfetto. Qui, pietra di farro. Se la usiamo. Veloci come... Come... Sonic the Hedgehog. Ok. Ora, qui... C'è una zona particolare. Eccolo. Oh, sì. Io direi proprio di fare il campanile del sole oggi. Sono pronto. Più o meno. Oh, di nuovo loro. Aiuto. Wey, signora. Ma no. Ma faglielo il backstab, dai. Combatti. Mamma mia. Mi droppi qualcosa di... Succoso? No. Un bel drop. Oh. Maschera da guardiano della... Eh. Maschera da guardiano della cripta. Aiuto. Mamma mia. Che danno. Calmo. Cosa mi dai? Un'altra. Cercavo proprio lei. Quanto mi caco sotto contro quelli... Con le armi pesanti. No. Oh, ma... Ma l'equilibrio... Qui sei... Sei tu l'equilibrio. Vieni, vieni. Bravo, bravo. Incastrati così. Ale. No? Ehi, maestro. E che è? Oh, no. È lui. Vieni, vieni. E no. Non fare il furbo, eh. Però non è giusto che non posso farti il backstab perché sei più basso di me. Oh, beh. E qui ci sono i... I forti. Eh, qua c'è la cavalleria. Ahia, eccone uno. Mannaggia lui, guarda. Venga, venga, che lei fa tanto il gradasso da lontano, ma... Se mi avvicino, lei non ha più... Guardi lì, ma si... Ma stia fermo, ma cosa fa, ma... Ale. Wow. E io la faccio così. Oh. Mister. Io cosa devo fare? Ale. Meno male. Mi spiace. Morire così, però... Uuuuh. Proprio no. Devo anche prendere gli oggetti, però. Iiii. Mamma mia il danno che fanno questi... Signorini. Qui c'era un muro? Esatto. Bottino. Oh, bene, 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 bene. Dopodiché... Uh, un bel ricettacolo. Bene. Così se dobbiamo cambiare ce l'abbiamo, ok? Le ho divisi. Strategia. Oh. Vieni, vieni. No. Ale. Vediamo. Oh, oh. Siamo belli. Siamo in Fettrol, però... Non male. Ok. 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 Ho fatto l'errore. Ho fatto l'errore. Si poteva qui fare un... Sono un cretino. Sono un cretino. Non c'è altra spiegazione. Torniamo al falò di prima, allora. Almeno abbiamo l'equilibrio. Difesa fa schifo uguale a prima, però... Oh. Abbiamo l'equilibrio. Cioè... Ai, 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 ai. Posso? Posso andare senza... Oh, vi prego. Già sono in Fettrol. Quindi è difficile. Iiii, anello del quarzo del fulmine. Benedizione divina. Dove sto andando? Mannaggia a me che mi infilo in ste situazioni. E muoio. Eh, sì. Andere. Yes. Sì. Andere. lei.